Siamo qui con Ruggeri, il migliore in campo della partita che si è appena conclusa con il risultato di 6 a 3. Hai messo a segno una splendida tripletta, soprattutto il terzo gol. Vogliamo commentare con te la prestazione della tua squadra e in generale la tua prestazione? Diciamo che la prestazione della squadra è stata buona e non ottima. A Sprazi abbiamo espresso un buon calcio, a Sprazi abbiamo concesso un ball all'avversario. Questo magari con un avversario non molto temibile riesce a soccombere poi con un'azione, riesce a fare il gol e ti porta avanti. Però con una squadra di quale livello magari questo non lo puoi fare e quindi non deve succedere. A tuo viso cos'è che è mancata alla tua squadra per non essere una prestazione eccellente? Solamente un po' di rilassatezza, solo quella. Quindi allora, mi chiamo qui lì in bocca al lupo a te per il proseguo del tuo torneo e comunque della tua squadra. Grazie. Siamo qui con Caramanna, il migliore in campo della tua squadra, quindi è l'uomo team. Vogliamo commentare con te la sconfitta arrivata con il risultato di 7 ma soprattutto un dato che se è stato tu per dover segnare gli unici due gol della tua squadra, tu che sei difensore sostanzialmente. Quindi cosa manca alla tua squadra anche un po' in attacco e in generale? No, ma forse manca un po' di attenzione in più sottoporta, però la squadra è questa e dobbiamo andare avanti così, questi siamo. E' anche vero che affrontate la squadra, a detti tutti, migliore del torneo, quindi comunque non vi siete comportati malissimo, avete fatto la vostra figura, quindi complima io. Grazie, no, non le palle l'abbiamo giocato, l'abbiamo fatto girare, loro erano tecnicamente più bravi, quindi hanno meritato la partita. Complimenti a te la tua squadra per il torneo. Grazie. Ciao. Ciao.